Buongiorno, sono Francesca Catapano, sono responsabile risorse umane di un albergo della capitale facente parte di un gruppo multinazionale americano. Mi occupo di risorse umane da alcuni anni e oggi pomeriggio ho avuto il piacere di prendere parte alla premiazione del termine del Master 11esima edizione di Tourism Management di Hima. Devo dire è stata una bella esperienza, ho incontrato ragazzi molto motivati, in gamba, desiderosi di fare esperienza all'interno delle aziende e oggi questo in un contesto competitivo è sicuramente un elemento importante. Abbiamo già avuto opportunità all'interno della mia azienda di ospitare dei ragazzi che hanno frequentato questo percorso, devo dire con buoni risultati, con successo, alcuni sono stati trattenuti, altri sono andati a fare esperienze all'interno di altre strutture. Ritengo quindi che sia positivo il fatto che oggi sul panorama italiano, in particolare su Roma, ci siano strutture che offrono l'opportunità ai ragazzi di crescere e di fare delle esperienze positive all'interno del settore del turismo.